Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti su Segnalazioni, la video rubrica che cerca di segnalarvi, prelevandole dalle profondità del web, strumenti, risorse, informazioni e di interesse per il mondo della formazione, perché la navigazione su internet non sia una lunga odissea. La metafora viene a puntino oggi perché vorrei segnalarvi un blog, immersività.it, scrivere e annegare, è un blog realizzato da Giuseppe Chiodi, Napoli, classe 92, autore di romanzi e di racconti, appassionato di letteratura di narrativa, e che è anche capace di offrire degli strumenti di narratologia che possono essere molto utili nell'ambito della scrittura creativa o comunque in ambito educativo per tutti coloro che si occupino di storytelling e vogliono farlo, cercando di capire che cos'è la struttura narrativa, quali sono i suoi elementi, qual è la sua dinamica e così via. Bene, troviamo su questo blog tante cose, i romanzi dell'autore, la promozione di questi romanzi, recensioni, assistenza, elementi di narratologia e di scrittura creativa. E' soprattutto questo che ci interessa, le risorse per scrittori. Si tratta di modelli di plot, che sono il viaggio dell'eroe, gli archetipi di Jung, i personaggi, il sistema dei personaggi, il punto di vista, generi, fabula, intreccio, struttura narrativa, le sequenze narrative, l'arco di trasformazione del personaggio e così via. Tutti elementi di cui è necessario avere una comprensione, magari di base, se si vuole affrontare il discorso dello storytelling in ambito digitale e in modo sensato, in modo efficace. Per trovare il blog di Giuseppe Chiodi, questo palombaro del web, basta scrivere su motore di ricerca Immersività, anzi senza l'accento, Immersività, blog Giuseppe Chiodi, e arriviamo su immersività.it. Quello che a noi particolarmente interessa, che vi mostro subito, così non perdete tempo, per carità, guardatevi tutto naturalmente, anche perché può essere di interesse, è questa sezione. Quindi lasciamo stare recensioni, i miei romanzi, eccetera, che sono comunque sezioni interessanti, e andiamo a Risorse per scrittori. Qui possiamo consultare tutti gli articoli scritti, per esempio costruire una storia con gli archetipi junghiani che vengono confrontati con quelli proposti da Vogler nel suo Viaggio dell'eroe, che a sua volta riprende e divulga il molto più complesso testo di Campbell sul tema del Viaggio dell'eroe, oppure il Monomito del Viaggio dell'eroe, ancora, e così via. Per consultare gli altri articoli basta andare qui, oppure nell'archivio, e vedete, Narrativa e Neuroscienze, trucchi per scrivere un romanzo, il punto di vista, non ci rendono molto bello la struttura narrativa di una storia? Ecco, andiamo a vedere la struttura narrativa di una storia, per prenderci conto di com'è organizzato l'articolo. Sono articoli molto lunghi, molto approfonditi, scritti bene, non banali, cioè che non banalizzano i contenuti affrontati in modo in genere superficiale, corredati, come vedete, da illustrazioni, immagini, schede e schemi, che affrontano i vari tratti, questo è il testo di Trubi, Anatomia di una storia, anticipati dal titolo, i vari tipi di storia, spirale, ramificata, eccetera, come vedete, insomma, è molto interessante e può essere molto utile per tutti coloro che vogliono approfondire gli elementi, vedete, è proprio un piccolo saggio, potrebbe essere il capitolo di un saggio, Dara Mars, l'arco di trasformazione del personaggio, sono citati anche i testi, citazioni di quelli che sono i testi più importanti sull'argomento, esempi, schemi, si tratta veramente di un articolo esauriente sull'argomento. Bene, spero che questa segnalazione possa tornarvi utile, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata, con la speranza che alla fine possiate vivere felici e contenti.